Il Centro Studi Dinogrammatico, questo pomeriggio insieme al patrocino del Rotary Club Trapanierice, presenterà la ristampa del volume realizzato nel 1963 dal professore Angelo Bellanca dell'Università di Palermo, dal titolo L'Industria Marmifera nella provincia di Trapani. Interverranno il sindaco della città di Custanaci, l'ingegnere Giuseppe Bica, il presidente del Rotary Club Trapanierice, il dottor Puntrello, l'arciprete del Santuario Mare Santissimo di Custanaci, Antonino Marrone, e il presidente del Centro Studi Dinogrammatico, il dottor Fabrizio Fonte. Con questa ristampa il Centro Studi Dinogrammatico vuole dare un ulteriore contributo al fine di poter tutelare quel comparto produttivo che già dagli anni Sessanta fu oggetto di studio scientifico. Inoltre, proprio in quel periodo, nella città di Custanaci fu realizzato dall'allora primo cittadino l'onorevole Dinogrammatico per cinque edizioni la Sagra Nazionale dei Marmi di Sicilia, che ebbe effetti positivi per la valorizzazione e la promozione del nostro marmo. Il Centro Studi Dinogrammatico vuole poter affermare che c'erano e ci sono a nostro avviso tutte le condizioni di natura sociale o economica per poter rimuovere ai sensi dell'ambiente i vincoli comunitari che comprimono lo sviluppo industriale del comparto marmifero, che oggi, in questo periodo di crisi a livello occupazionale, riveste ancora di più un'importanza socio-economica, a dir poco strategica. Grazie. 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 Grazie.